Sono stati sorpresi con dosi di hashish e marijuana e cinque minorenni fermati dalla polizia di Fano in via Marche nel quartiere Poderino. Quattro di loro sono stati segnalati alla prefettura come consumatori e verranno convocati insieme ai genitori per le procedure del caso. Il quinto ragazzo invece è stato denunciato all'autorità giudiziaria perché è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Il giovane infatti è stato trovato in possesso di otto dosi di marijuana, di un bilancino di precisione 100 euro in contanti, ritenuti essere il provento dello smercio della droga. Gli agenti del commissariato di Fano, diretti dal dirigente Stefano Seretti, hanno effettuato controlli anche negli esercizi pubblici e nei parchi, sia in uniforme che in borghese. Nel centro storico di Fano, grazie a una collaborazione con il comando dei vigili urbani, i poliziotti hanno sorpreso quattro minorenni a fumare tabacco all'interno di un locale, nonostante il divieto. Il titolare ha ricevuto una sanzione di 1000 euro ed è stato segnalato per i conseguenti provvedimenti di chiusura temporanea dell'esercizio. I poliziotti poi, nei giorni scorsi, dopo diverse segnalazioni di genitori e residenti, hanno riscontrato un assembramento vietato di cliente al caffè dello Sport in Via Nolfi. Il titolare è stato quindi sanzionato per il mancato rispetto delle misure anticontagio. In questo caso la multa elevata è stata di 400 euro. Per lui anche la sanzione accessoria dell'immediata chiusura per 5 giorni del locale, che ha potuto soltanto oggi riaprire battenti.